e si è appena concluso il decimo round qui dal Mugello e in studio nel salotto buono come lo chiamo io di After Chief ci hanno raggiunto Kevin Sabatucci, benvenuto, Kevin Arduini, benvenuto, Luca Bernardi, benvenuto, Luca Bernardi è il nuovo campione italiano 2017 della Supersport 300, congratulazioni. Grazie mille. Sì, è una cavalcata vincente quella di Luca perché comunque a colpi di podi e vittorie si è giudicato questo titolo con pensate ben due mangi d'anticipo che non sono poche in una categoria combattuta come la 300, a onor del vero dobbiamo dire che sì, loro sono i primi tre della classifica di oggi di gara 2 ma in realtà la gara è stata vinta da Chris Fillmore, l'americano di KTM che come sapete fa wildcard trasparente, come poi si parlava fuori onda trasparente in realtà a livello di punti perché poi in pista a scarenare e insomma a dare un po' fastidio, cioè ecco. Non è trasparente per nulla, vero Kevin? Sì assolutamente, in pista dà il suo bel da fare anche lui. Io passerei a bomba, se mi permette Daniela, sul vincitore perché Luca è il campione italiano. Allora Luca, che stagione è stata? Hai solo 16 anni insomma tutta una carriera davanti, direi che hai iniziato col piede giusto. Sì sì, sono contentissimo perché ho fatto una bella stagione, sono sempre stato costante con le gare, con tutto e anche il mio babbo è stato a top a sistemare la moto insieme al mio meccanico Manolo, li devo ringraziare a loro soprattutto e sono molto contento. Onor del vero, oggi è stato il secondo zero in questa trasferta toscana per il suo diretto antagonista Carusi, però anche se non fosse caduto in realtà Luca aveva un vantaggio che gli aveva permesso arrivandogli avanti o subito dietro di ipotecare, anzi di portare a casa il titolo già da qui, già da gara 2 del Mugello. Carusi out come ieri sabattucci che però oggi buon terzo, ieri hai fatto un po' ultima curva, ultimo giro. Un po' da principiante. Che non sei principiante per ogni tanto. È quello che mi ha stupito di me stesso. Com'è andato oggi? Oggi si è rifatti, dai. Contanto a metà dai, perché quando sei lì è da ieri che mi sento competitivo, però dai, le volate sono queste. Invece devi sapere, Daniele, che in classifica generale Carusi a punto out è stato scavalcato dal secondo dei Kevin qui presente, Arduini, che da un po' di gare mette a segno i punti pesanti e adesso dai, ormai il titolo è andato, però non è che nella seconda posizione finale ci faccia schifo, vero? No, no, anzi, è diciamo il nostro obiettivo, il mio e della squadra. Già allo scorso Mugello avevamo fatto due belle gare che ci avevamo portato su tanto in classifica ed eravamo lì a ridosso. Misano non è andato proprio bene, quindi questo weekend ha fatto bene sia il morale che la classifica perché ci ha riportati su. Peccato per il campionato perché sai, comunque, quando uno parte non parte per far secondo, parte per vincerlo. Però, vabbè, complimenti a Luca che è stato molto bravo e costante tutta la stagione. Ora andiamo a Vallelunga, ci giochiamo il secondo posto e sperando di fare un altro bel weekend come questo. Una lotta per il secondo posto aperto, tra l'altro ricordi anche Sabatucci ha saltato quattro manci in pratica di questo campionato, insomma con quelle quattro manci in più sarebbe stata ancora più aperta la lotta. Qualche ore in meno. Qualche ore in meno, qualche manci in più, cioè è tutto un dare, un avere. So che Luca Bernardi, magico vincitore di quest'anno, ha una dedica speciale da fare. Sì, volevo dedicare il campionato a Simone Mazzola. Perché sappiamo che il round inaugurale, cioè la doppia trasferta di Imola, aveva visto, beh, Bernardi piazzato bene comunque, però aveva visto il doppio vincitore, una doppietta per Simone, che sappiamo tutti, adesso sta scontando i postumi di un grave incidente a Misano, si sta riprendendo, però bella la dedica, no? È peccato non averlo avuto fino in fondo in questo campionato. E come sai Simone, siamo davvero sempre tutti quanti con te, quindi forza Simone, lo diciamo veramente a cuore aperto. Programmi 2018, ragazzi, ne parliamo a Vallelunga, manca veramente un attimo, quindi non anticipiamo nulla, lasciamo la spanza. Daniela, così si schiariscono le idee, perché avranno le idee un po' più chiare a Vallelunga, su cosa faranno, Sabatucci lo so già, perché mi guarda e vuoi dire, io lo so, non lo so, lo sai? Bene, allora ce lo dice Vallelunga. E dai, tutto rimandato a Vallelunga per i programmi futuri, intanto bravo Luca Bernardi, grazie. Ma bravi veramente tutti, sappiamo che la categoria è davvero combattutissima, siete in tantissime, quindi essere lì davanti è un segno di grande forza. Pertanto, siamo arrivati in saluti, il tempo è sempre con noi, cattivissimo! Ti saluto Luca Bernardi, congratulazioni! Ciao a tutti, grazie! E il primo Kevin, Arduini, alla prossima! Ciao, grazie a tutti! Kevin Sabatucci, ciao! Ciao, speriamoci a Vallelunga! E noi di After Chief andiamo avanti!